Il convegno avrà ad oggetto una delle tematiche più importanti del diritto amministrativo, che è la legge 241 del 90. Una legge importante perché ha accentuato la tutela del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e ha conferito al singolo ruolo di primo piano nell'esercizio stesso del potere. In tal modo il privato ha risposte più vere e più concrete rispetto alle proprie istanze e ai propri bisogni. Il convegno si svolgerà presso la sede della BCC a Sant'Arsenio, della BCC Montepruno di Roscigno e Laurino alle ore 15.30. Sono previsti illustri ospiti, ce li puoi elencare? Sì, dopo i saluti del direttore generale della Banca, del dottor Michele Albanese e dell'avvocato Nicola Senatore, che è presidente della Consilium Senatoris, avremo come relatori in nome di eccellenza nazionale, come il dottor Cirillo, che è presidente di sezione del Consiglio di Stato, nonché presidente del Comitato Scientifico della Consilium Senatoris, e la dottoressa Ida Raiola, che è consigliere del TAR Napoli. Dopo, mi diceva, è previsto anche un momento conviviale alla fine dell'incontro? Sì, aspettando comunque una presenza numerosa, dato che in solo un anno di attività abbiamo avuto la possibilità di avere oltre mille adesioni, che appartengono alle diverse categorie professionali. Sì, alla fine del convegno è previsto un momento conviviale, dove sarà occasione per scambiarsi gli auguri per le prossime festività di Pasqua.